Eccoci qua ragazzi, top e flop di Sampdoria Fiorentina 2 a 0, l'abbiamo ampiamente commentata ieri, grande vittoria, buona avventura, e Milenkovic decidono il match e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like e soprattutto attivate la campanella e che dire, partiamo indubbiamente prima con un'analisi velocissima della partita che abbiamo fatto ieri, quindi se non avete visto il video andate a recuperarvelo, ma è chiaro che la Fiorentina ieri ha dominato in lungo e largo la Sampdoria, una Sampdoria che è messa veramente molto male, la vedo insieme a Lella Sverona, una delle due squadre più critica a livello di situazione per potersi salvare al di là di tutti i tentativi che il tecnico Stankovic ha provato e sta provando a fare. Fatto sta che la Fiorentina dà continuità dopo la vittoria non straordinaria, non meritatissima di La Spezia di domenica scorsa, comunque arriva la seconda vittoria consecutiva in campionato, non anche arriva da diverso tempo, se ci vogliamo mettere anche il match contro la riga, sono tre partite in una settimana in cui la Fiorentina riesce a vincere, soprattutto secondo Cleansheet, perché dopo la partita contro la riga, Cleansheet anche oggi a riga, grazie a Terracciano, fondamentalmente ieri con la Sampdoria, non è che ci siano stati grandi opportunità, perché? Perché c'è stata sicuramente una grandissima fase difensiva, top e flop dopo 1 minuto e 25 di analisi, partiamo ovviamente da Jack Bonaventura, 7 e mezzo per lui, al di là del gol dopo pochi minuti, che comunque è un gol importante, è un gol che apre le danze, è un gol che dà fiducia a tutta la Fiorentina, tutta la rosa viola, beh sicuramente fa da collante tra centrocampo e tre quarti, fa degli inserimenti molto importanti, è fondamentalmente l'uomo che serve nel momento più importante, perché come dicevamo, cercavamo e chiedevamo soprattutto alla Fiorentina italiana di dar continuità ai risultati, alle prestazioni, beh oggi o meglio ieri tutto questo è avvenuto, sono veramente molto contento perché Bonaventura, il vero Bonaventura secondo me quest'anno l'abbiamo visto molto poco, ecco io credo che ieri a Marassi si sia visto veramente un gran bel giocatore, ribadisco al di là del gol si prende un 7 e mezzo perché mi è piaciuto molto in fase di inserimento, parlavamo di clean sheet, parlavamo di difesa, 7 a Nicola Milenkovic, gol fotocopia come quello fatto alla Spezia una settimana poco più fa, bellissima rete, bellissima alzata, ma lui si sa questa è una delle specialità della casa, grande il corner anche di Capitan Cristiano Biraghi, ma al di là di quello io ho visto un Milenkovic sempre puntuale, sia con l'assistenza di Lucas Martínez Quarta, sia con l'assistenza del Brasileiro 98 Igor, ma al di là di questo io vedo un Nicola Milenkovic in grande forma, tra i migliori sicuramente in campo insieme a Jack Bonaventura e dà sicuramente continuità di prestazione a uno degli uomini, sicuramente col segno più al 7 di novembre, quindi è molto importante, parlavamo di difesa, ma parlavamo ovviamente anche di centrocampo, avendo citato Jack Bonaventura, 7 e mezzo per Jack, 7 per Milenkovic, 6 e mezzo per Rolly Mandragora, finalmente un Mandragora come mi piace a me, ha voluto italiano preferirlo diciamo a Sofiana Amrabat, ha risposto presente Mandragora, che aveva il compito di girare il pallone, fase di possesso veramente molto buona, ha provato anche a fare alcuni filtranti, alcuni riusciti altri un po' meno, ma nel complesso se non vi sono riusciti alcuni filtranti non sono certo colpa sua, ma colpa del giocatore che a breve andrò a citarvi, per il resto partita sicuramente molto molto buona da parte di Mandragora, duncan ci ha messo magari un pochino più di fisicità, un pochino più di dinamismo, lui un pochino più fermo, ma aveva il compito, ribadisco, di far girare il pallone, ci riesce, nonostante comunque i giocatori della Sampe per non molto dei 90 minuti, ma hanno comunque provato a pressarlo, lui si è sempre fatto trovare presente, non ha mai perso il pallone, e se, come dicevamo, possiamo parlare bene di tutti i giocatori, io ho messo tre giocatori, Buonaventura Milenkovic e Mandragora, ma ovviamente menzione anche per Quame che ha fatto una buona partita, menzione per lo stesso Dudò che ha messo l'assist dell'1-0 per la Fiorentina, dobbiamo dare un solo flop e il flop mi dispiace per lui, se lo prende. Luca Jovic, direi due passi indietro rispetto allo Jovic, visto nelle ultime apparizioni, non mi è piaciuto, camminava, è anche vero che non stava bene, lo abbiamo detto anche a Radio Firenze e Viola, erano arrivati da Malassi dei feedback negativi, del fatto che comunque lui avesse fatto un provino prima di entrare in campo, e che comunque fosse entrato in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio, fatto sta che non ci è piaciuto e proprio in relazione a ciò che stavo dicendo prima su Mandragora, ha provato a mettere delle palle là davanti, ma Jovic oggi non era assolutamente in forma ed era secondo me giusto, magari se non stava bene, non farlo giocare a pro di Arturone Cabrale, che ribadisco abbia fatto una buona prestazione, una prestazione a sufficienza, niente di eccezionale per Jovic, c'è invece il voto finale, è un 5 pieno, fatemi sapere che cosa ne pensate, come detto all'inizio del video, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campana per rimanere aggiornati tutte le volte che pubblico invito e soprattutto commentate sotto al video, fatemi sapere cosa ne pensate di top e flop che ho scelto io, noi ci sentiamo prossimamente, anche perché ora c'è un tour de force importante, Salernitana mercoledì, Milan domenica e poi un po' di riposo per la Fiorentina, non certo per questo canale, ciao a tutti.